E' bella a tutti ragazzi, oggi con noi che vi parlano in questo nuovissimo video, oggi un video specialissimo perché come avete chiesto anche voi nel sondaggio su Instagram i top 20 la lampada di nuovo, i top 20 goal della serie A per quanto è uguale al Torino adesso vedete la compilation, mi raccomando lasciate subito un bel like per questo video, supportatelo perché merita veramente tanto intanto ci tengo a precisare, vi lascio anche il canale nelle schede, che tutte le clip sono prese dal canale ufficiale della serie A che trovate anche in descrizione per andare a riprendere gli highlights delle partite di nuovo, questa lampada ragazzi sta diventando un meme del canale, però vabbè spegniamola, va che qua, se no andiamo avanti con i lampi, ma ancora le tempeste si vede un po' male, però pazienza, poi la sistema detto ciò, dicevo, andate appunto a vedere anche il canale sperando, pregando YouTube che non ci diano il copyright e niente, io direi che ci vediamo a fine video per salutarci e poi per l'auto a dopo ragazzi yeah ha 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 ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti